Mister, forse l'approccio alla partita vi ha condizionato un po' il risultato dell'Ascoli? Ma no, bisogna dare atto agli avversari, hanno approcciato bene loro la partita, noi ci eravamo, loro ci hanno messo in difficoltà con uno scivolamento tattico che facevano perché da un 4-3-1-2 si trasformavano in un 3-4-1-2 ci attaccavano molto su tutta fascia nostra, all'inizio ci abbassavano con la palla lunga, quindi siamo andati un po' in difficoltà sotto questo aspetto, abbiamo trovato una squadra molto carica, molto determinata perché loro chiaramente si giocavano la salvezza, noi secondo me abbiamo fatto una buona prestazione, secondo Tempoli abbiamo chiusi nella loro metà campo, è mancato chiaramente il gol, è mancato l'acuto che ci poteva permettere di avere un altro risultato, però la prestazione è stata positiva, i giocatori hanno corso tanto quindi va bene. Sì sì, ma ragazzi ci sta l'avversario, ci sta l'avversario che bisogna tenerne conto, io durante la settimana l'avevo detto, l'avevo messo in preventivo, è chiaro che ci sta questa partita in questo modo qua, adesso dobbiamo già pensare alla prossima che è una partita determinante, importantissima, è un'altra semifinale importante, quindi adesso lasciamo perdere questa partita e ci buttiamo totalmente sulla prossima, dando dei meriti all'avversario ma curando anche molto la prestazione che abbiamo fatto che è stata sempre una grande prestazione. Partita grintosa, a tratti anche cattiva, si è innervosita, lei un po' ha perso le staffe, è arrivato l'allontanamento da parte dell'arbitro, su che cosa protestava in occasione dell'espulsione, non per il gol del Prato ma per qualche azione precedente? No, ma è una partita, ecco questo mi confermi dicendo queste parole, che la prestazione è che il Teramo in campo ci stava, è stata una partita agonisticamente giocata ad alto livello, purtroppo l'arbitraggio è stato un pochettino inadeguato, però ci sta anche questo, lo dobbiamo tenere in considerazione, io mi sono semplicemente sul gol che abbiamo preso, ho lamentato le botte che stavano ricevendo i nostri attaccanti, lui mi ha detto si calmi, io ho detto io mi calmo se fa quello che deve fare e lui mi ha buttato fuori, ma non a favore nostro o contro di noi, è stato proprio un arbitraggio dove lui voleva fare il protagonista, io ci sono cascato e accettiamo anche questo. Assolutamente, io non guardavo quando li guadagnavo, non guardo adesso, noi abbiamo da fare ancora tre partite e le dobbiamo fare bene, a me la cosa che mi rincuora è come il Teramo è stato in campo, la gamba che ha in questo momento qua, la corsa che ha fatto, è mancato forse qualche cosina per far gol, dobbiamo lavorare ancora di più sulle palline attive, dobbiamo lavorare ancora di più sulla finalizzazione, però affrontiamo queste ultime tre partite con grande serenità. Il cambio di Cenciarelli, lì ha provato a mischiare un po' le carte con Petrella? No, abbiamo messo... Anche perché Cenciarelli, chiedo scusa, giocava molto largo a sinistra a un certo punto della partita? Sì, ma è entrato Fiore, se non sbaglio al posto suo, proprio per dare un pochettino più di profondità, per accompagnare un po' di più i due attaccanti, Fiore ha un po' più gamba per arrivare in porta avversaria, e quindi si è dato, volevo dare una mano ai due attaccanti, penso che Fiore l'abbia fatto anche bene, però anche lì è mancato un acuto sia suo di Petrella, anche di Bucchi, cercando proprio in tutti i modi di cercare di sbloccare la partita, non ci siamo riusciti. Sì, sì, sicuramente, il programma è quello che adesso lunedì ci alleniamo, martedì pure, mercoledì pure, e dobbiamo preparare bene la partita con il Ponte d'Era. È un bel programma, insomma. Sì, sì, come al solito, dobbiamo stare sempre concentrati, dobbiamo cercare di migliorarci sempre. Oggi è sorridente, stranamente, quando vince non lo fa, come mai? Perché, diciamo, sono soddisfatto per la prestazione, come lo sono anche quando si vince, poi purtroppo conosco tanto il calcio, io sapevo, diciamo, nel momento in cui magari si può alzare troppo la testa, si parla troppo, sì, è chiaro che di conseguenza può arrivare anche, diciamo, delle sconfitte. Quindi, io purtroppo ho un brutto visio di preventivare troppo le cose, quindi aspettavo che adesso sono sorridente, perché le prossime andranno meglio. Sì, 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 sicuramente, perché dobbiamo curare tutti i particolari, nella partita col Ponte d'Era è una partita delicatissima, e dobbiamo fare una grande prestazione.